La rubrica di valutazione è uno strumento di progettazione del momento della valutazione nelle mani del docente, ma può diventare un interessante contenuto delle attività in aula, perché nel momento in cui il docente presenta la rubrica di valutazione agli studenti, può utilizzare questo momento per spiegare bene quali sono i criteri e gli indicatori significativi di una buona prestazione. Se io sto proponendo ai miei studenti di realizzare un progetto non elaborato, spiegare bene loro quali sono i criteri in base ai quali lo valuterò e quali sono gli indicatori di una buona performance, significa anche costruire un processo di rafforzamento delle loro specifiche abilità e competenze, dando dei messaggi chiave su qual è la buona prestazione attesa. Un modo perché questi concetti diventino patrimonio operativo degli studenti può essere di non limitarsi semplicemente alla presentazione delle rubriche di valutazione connesse agli elaborati chiave che il docente intende proporre lungo il percorso, ma coinvolgere in modo attivo gli studenti nella costruzione di tali rubriche. Allora, questa modalità cambia radicalmente il set dell'aula perché mette gli studenti in una posizione attiva verso un processo che tipicamente vivono in modo passivo. Lo studente generalmente vede proprio la valutazione come un contesto nel quale lui agisce in modo passivo, cercando di soddisfare quelle che sono le aspettative del docente, che spesso non gli sono ben chiare. Nel momento in cui il docente propone agli studenti di costruire insieme a lui la rubrica di valutazione, va a stimolare la loro riflessione rispetto a quella prestazione attesa, il loro senso critico e la loro capacità di andare a sintetizzare degli elementi significativi. In più, li coinvolge e li attiva rispetto al processo di valutazione di cui avranno una percezione migliore, soprattutto in termini di chiarezza e di equità. Non si tratta di niente di eccezionale. Si tratta, dal punto di vista operativo, di andare a dedicare un po' di tempo in aula per attivare dei piccoli lavori di gruppo, cosa che può essere fatta anche nelle classi molto grandi, in cui rispetto a un elaborato che gli studenti sanno di dover sviluppare, si chiede loro di mettersi in piccoli gruppi a costruire una piccola griglia di 4-5 criteri significativi ed eventualmente degli indicatori chiave. Di solito è più facile lavorare sui criteri che sugli indicatori per gli studenti, per cui un primo passo può essere quello di suggerire loro di lavorare in gruppo per individuare i criteri base. Dopodiché il docente potrà chiedere a un gruppo di presentare i risultati della propria elaborazione, i criteri che ha individuato ed eventualmente agli altri gruppi di segnalare somiglianze o differenze rispetto ai criteri individuati dal primo gruppo. Dalla discussione che emergerà collettiva, il docente potrà guidare la messa a punto della rubrica in termini di criteri e poi, collettivamente, guidare anche la specifica degli indicatori. Investire del tempo in aula sulla costruzione collaborativa delle rubriche può sembrare un pochino impegnativo, ma i risultati possono essere decisamente gratificanti, perché in primo luogo la costruzione collaborativa attraverso una discussione a piccoli gruppi e poi collettiva riguardo le rubriche di valutazione aiuterà la comprensione e la corretta interiorizzazione delle prassi appropriate per lo sviluppo dell'elaborato richiesto, ma aiuterà anche lo sviluppo di competenze trasversali, in particolare quelle legate al senso critico e alla capacità di autoosservazione, perché nel momento in cui ho capito bene qual è la prestazione attesa, sarò in grado di attivare un processo di autoosservazione automonitoraggio durante lo svolgimento che mi consenta di valutare se sto andando nella direzione giusta o meno. Certamente è anche un elemento di più attivo coinvolgimento nel corso, perché non percepisco più il momento della valutazione come qualcosa di estraneo che arriva ad un certo punto a sancire un punto d'arrivo che forse non mi è neanche chiarissimo all'interno del percorso di insegnamento e apprendimento, ma mi sentirò parte più attiva di quel processo. Naturalmente porta a una migliore comprensione delle dinamiche di valutazione, ma può anche essere di particolare aiuto all'acquisizione di specifiche conoscenze, perché il momento della condivisione delle rubriche di valutazione può essere anche quello attraverso il quale il docente sottolinea come specifiche conoscenze o abilità siano necessarie per lo svolgimento appropriato della performance attesa. Non è questo, però, l'unico modo in cui gli studenti possono avere un ruolo attivo nella valutazione, nel processo di valutazione. Un'altra strategia molto interessante è quella della valutazione tra pari. Già molti anni fa Weaver e Cottrell avevano sottolineato il fatto che la valutazione tra pari incoraggia il coinvolgimento e mette l'accento, permette di comprendere più pienamente quali sono le competenze che ci si si aspetta che gli studenti vadano a sviluppare. Il momento della valutazione tra pari è il momento in cui gli studenti sono chiamati a mettere in gioco contemporaneamente conoscenze, abilità e competenze, ma anche pensiero critico e la capacità di valutare se quello a cui stanno assistendo corrisponde alla prestazione attesa applicando diversi criteri di indicatori che hanno ben interiorizzato precedentemente. Questo può essere naturalmente svolto sia attraverso dei momenti di colloquio che attraverso l'analisi poi di singoli elaborati, eventualmente anche anonimizzati, se si percepisce il fatto che i studenti magari esitano un pochino nella valutazione dei pari e può, a secondo della strategia del docente, diventare o meno parte del processo valutativo stesso. Le strategie di valutazione tra pari sono tornate di grande interesse anche con lo sviluppo dei massive online open courses, perché in questi grandi corsi online in cui i partecipanti possono essere anche molte centinaia, se non molte migliaia, il fatto di attivare delle dinamiche di valutazione tra pari rende più sostenibile tutto il processo di valutazione anche lato docente. In molti di questi corsi è richiesto, ad esempio, per acquisire il certificato finale, non solo di presentare il proprio elaborato, ma di presentare anche un certo numero di valutazioni fatte su elaborati compiuti dai pari. In questi processi di valutazione e di feedback potrebbe esserci il grandissimo aiuto tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, che effettivamente sta compiendo passi molto interessanti e rapidi rispetto alla capacità di gestire in modo automatico o semi-automatico la valutazione di elaborati e la costruzione di feedback adeguati, anche, eventualmente, integrando i contributi umani dei pari o dei docenti. Proviamo a sintetizzare i punti principali. Nel processo di valutazione lo studente non è soltanto un soggetto passivo. Può essere estremamente interessante provare a coinvolgerlo. Una strategia di coinvolgimento degli studenti è quella di attivarli nella costruzione collaborativa delle rubriche di valutazione, costruendo insieme criteri ed indicatori che serviranno a valutare le prestazioni che il docente andrà a sollecitare, in modo che siano comprese meglio e maggiormente interiorizzate poi nello svolgimento delle attività. Molto interessante può essere anche il sollecitare la valutazione tra pari, che potrà anche diventare un elemento, poi, della valutazione finale.